Lunedì 26 maggio 2014, nell'ormai consueta cornice dell'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano, si è parlato di Smart Building e Lead. L'evento è accreditato dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori per sei crediti formativi professionali, a valere per il triennio 2014-2016. Oggi proviamo a parlare e a dimostrare alla gente che ci ascolta e che ci vuole bene che l'azienda può essere a 360 gradi un'azienda ecosostenibile. I punti cardine per noi sono la ricerca, l'etica e la responsabilità civile. L'innovazione è sempre in avanguardia ma sempre nel rispetto dell'ambiente e del nostro pianeta. Allora da un po' di anni, da un paio d'anni in realtà abbiamo affrontato una difficoltà che si riscontra sul mercato. Noi lavoriamo indirettamente o direttamente col mercato dell'edilizia, dunque della costruzione. È molto importante la presa di coscienza dello stato dell'arte. E abbiamo notato da noi, presso le nostre sedi di produzioni, una grande percentuale di scarti, nati dalla produzione prima della rifinitura del prodotto. E lì abbiamo pensato a riciclare il prodotto, però le quantità erano talmente piccole che non ci consentivano la messa sul mercato di un prodotto nuovo al 100% riciclato. E siamo andati a vedere, con le ente pubbliche competenti nei vari paesi dove ci troviamo noi come produttori in prima linea, la questione dello smaltimento dell'edificio alla fine della sua vita. Vi passo i passi, i vari step che abbiamo dovuto fare perché ci sono dei prodotti da eliminare, da mantenere eccetera, alla fin dei conti un paio di mesi fa siamo stati certificati prodotto per pavimenti carrabili ma anche pedonali semplicemente al 100% riciclato dove la percentuale di riciclo è molto importante e dove riusciamo a continuare il ciclo di vita sia dell'edificio ma anche dei nostri prodotti che sono saggiati utilizzati dando una nuova possibilità ai nuovi prodotti. Adesso avrò l'occasione e il grande piacere di annunciare il lancio commerciale di questo prodotto sono dei prodotti che sembrano pavimenti perché sono pavimenti lo confermo però hanno questo grande lusso tra virgolette di riprendere dei disegni abbastanza riconosciuti per l'effetto metallico del pavimento industriale o l'effetto design creativo della bellissima signora che rappresenta il nostro marchio ma che però sono perfettamente certificati in tutte le normative vingenti in Europa.